Poste italiane comunica che in provincia di Salerno le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da mercoledì 26 gennaio per i titolari di un libretto di risparmio di un conto banco posta o di una poste pay evolution. I titolari di carta postamat, carta libretto o di poste pay evolution potranno prelevare i contanti dai 171 ATM postamat disponibili in provincia senza bisogno di recarsi allo sportello. In continuità con quanto fatto finora e con l'obiettivo di evitare assembramenti il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell'ufficio postale di riferimento. Pertanto i cognomi dalla A alla B mercoledì 26 gennaio, dalla C alla D giovedì 27 gennaio, dalla E alla K venerdì 28 gennaio, dalla L alla O sabato mattina 29 gennaio, dalla P alla R lunedì 31 gennaio, dalla S alla Z martedì 1 febbraio.